Questa volta la stampa, i giornali, l'opinione pubblica, non so per quale ragione, sta pensando che questa vicenda sia una vicenda, come posso dire, non chiara, non trasparente. Pensano che questa gente che è qui, i maestri d'orchestra, i maestri del coro, i dipendenti, i tecnici, siano stati selezionati con metodi poco chiari. Tra di voi c'è veramente di tutto, l'unica cosa che non c'è mai stata è la selezione politica delle persone, questo me ne dovete dare atto, perché se ce n'è anche uno solo, se ce n'è anche uno solo, che può dimostrare che qualcuno di voi è stato qui reclutato con una ottica politica, bene lo dica, io non solo chiederò il commissariamento della fondazione, ma se qualcuno può dimostrare che qui dentro c'è stata una selezione politica, io mi dimetterò da sindaco di Bari se questa cosa è avvenuta, perché non esiste per nessuna ragione questa cosa. Molti di voi hanno fatto dei sacrifici, addirittura molti di voi si sono dimessi da un posto pubblico per venire a lavorare qui. Se qualcuno può dimostrare che qui dentro c'è stata una selezione politica, io mi dimetterò da sindaco di Bari, se qualcuno può dimostrare che qui dentro c'è stata una selezione politica, io mi dimetterò da sindaco di Bari. Se qualcuno può dimostrare che qui dentro c'è stata una selezione politica, io mi dimetterò da sindaco di Bari. Se qualcuno può dimostrare che qui dentro c'è stata una selezione politica, io mi dimetterò da sindaco di Bari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.